iscrivetevi al canale al canale al canale al canale ribalta tutto giacomo e buonasera stasera siamo in due ci mancano un peppe che è rimasto a roma a festeggiare con il gioco ha fatto peppe live incredibile un canale di trevi vedetelo ha buttato tutto il suo stipendio e monetine dentro la fontana per esprimere il desiderio di vedere l'inter in germans è servito parliamo subito di questa partita la partita principale di quest'ultima domenica lazio inter 2 a 3 diamo il nostro veloce parere sul intercinica lazio sfortunata e neanche troppo convinta di per vincere o pareggiare una partita che era penalizzata da infortuni penalizzata da infortuni dalla pazzia di lulic e dalla pazzia di simone inzaghi che ha fatto giocare dei frai promesso all'inter che ha fatto una partita ottima fino al punto in cui si è reso conto di giocare troppo bene ha deciso entro a ballata sui verdi non so come mai allora io fossi stato simone inzaghi non avrei fatto giocare dei frai non perché non mi fido del giocatore come professionalità perché comunque ha fatto un'ottima partita ha giocato bene a parte l'episodio però per evitargli problemi nel caso in cui fosse successo l'episodio come quello che è successo infatti adesso il web si è scatenato contro dei frai dicendo che l'ha fatta apposta dicendo che lui ha fatto il fallo poteva evitare il fallo da rigore sui cardi però quello era un fallo che forse 8 9 difensori su 10 avrebbero commesso vista la finta di cardi poi secondo me toglie anche la vittoria dell'inter perché va anche a danneggiare l'immagine di una squadra che ha conquistato sul campo meritatamente la champions league dopo una stagione ottima esatto comunque un'inter buona che è stata inferiore dal punto di vista del gioco e della tatticamente rispetto alla lazio però ha dimostrato con di restare in partita per tutti i 90 minuti con la grinta riuscita a portarsi la casa secondo me è quello che serve poi in champions league in champions non serve solo giocare bene non serve solo segnare tanto ma serve combattere tutte le partite fino all'ultimo e la dimostrava la roma contro il barcellona quindi atteggiamento proprio da coppa da partita che conta mentre la lazio è stata disattenta e poi anche penalizzata da una rosa inferiore quindi a mio avviso ci può stare benissimo questo piazzamento in campionato e poi a pari punti ma per scontri diretti l'inter torna in champions league a 8 anni e auguri a tutti i miei colleghi in tema stil perché oggi è un bellissimo giorno chiusa la parentesi su lazio inter non parliamo delle altre partite della serie a non parliamo della lotta a retrocessione ma come hanno fatto tutti i youtuber come hanno fatti tutti i programmi di calcio facciamo un pagellone ma il nostro sarà un pagellino perché partiremo delle migliori dall'atalanta cioè dall'ultimo posto disponibile uefa alla juventus allora diamo ne faremo una per uno mi dispiace però partiamo da parlare della fiorentina mi dispiace un po' perché è la grande esclusa abbiamo una parentesi sulla fiorentina fiorentina che ha fatto fino a gennaio un campionato da retrocessione e dalla tragedia di storia in poi ha fatto un campionato da champions league e ha chiuso a pochi punti dalla dall'europa league esclusa solo da una grandissima adalanta quindi direi a fiorentina confermasse tutti i giovani campioni che anche se sarà difficile tenere gente al calcio di chiesa e migliorasse solo un po' la difesa per poi l'anno prossimo fare una grande stagione in europa si sono stati penalizzati dal fatto della squadra nuova allenatore nuovo e sul giorno in andata in cui hanno portato a casa forse meno punti di quelli che di quelli che si si aspettavano la dalanta invece ha confermato la la squadra dell'anno scorso ha venduto alcuni pezzi pregiati ma l'ha sostituiti con giovani promettenti e i risultati poi si vedono sul campo perché ha fatto un campionato eccellente ha rivitalizzato gente come ilicic facendolo a tornare ad essere fuori classe che che ricordavamo e ha fatto campionato spettacolare arrivato ai preliminari che comunque per l'atalanta considerando anche che ha fatto un dischieto cammino in europa league nel frattempo è tanta tanta roba si quindi grande allenatore grandi giovani si conferma una squadra che lotta sempre per un posto in europa e quindi il voto per l'atalanta direi abbastanza altro io mi terrei più sull'otto comunque sì il milan qual è stato il problema il milan le aspettative perché ha fatto un campionato per il mercato l'ha fatta a mio avviso ottimi campioni affermati ma non per i soldi da spesi no no quindi perché la spesi male in attacco buonuccio e biglia mischiati a giovani promettenti tipo calabria che si il tutto rovinato da soldi sperperati malamente in attacco perché cali nel silva sono stati evanescenti e fortuna che avevano un giovane promettente come cutrone in panchina in primavera poi perché altrimenti sarebbero arrivati molto molto più bassi in campionato quindi direi che comunque è una stagione positiva non per appunto i soldi spesi ma per i risultati ottenuti perché è una squadra costituita da zero che si è qualificata diretta per l'europa league quindi potrà solo che migliorare l'anno prossimo con pochi accorgimenti sul mercato e tenendo i giovani però andresi il mercato inizia male 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 sì parliamo anche un attimo del cambio di allenatore perché c'è stato un buon miglioramento dopo l'inserimento di Gattuso quindi forse questi fattori tutti sommati insieme hanno dato il risultato del Milan che è arrivato al quinto posto al quinto posto che è stato conquistato a Milan voto al di sotto delle aspettative quindi io darei un 5 e mezzo 6 non di più perché col mercato che aveva fatto la Lazio la Lazio voto io darei un voto alto perché comunque una squadra con un allenatore che si conferma ma al suo secondo anno un ottimo allenatore in grado di valorizzare i giocatori giovani come Milinkovic Savic che è diventato il miglior centrocampista del nostro campionato Luis Alberto far diventare un top player Luis Alberto questa è grazie a si che mi ha ispirato questa battuta comunque sì la Lazio anche far tornare immobile un bomber implacabile tutto porta capo cannoniere incredibile la Lazio poteva meritarsi di più di quello che ha ottenuto assolutamente assolutamente sì peccato un po' per la difesa che a parte le frai è un colo a brodo per il resto dal centrocampo in su un grandissimo Lugas Leo ha un parolo che si conferma Mario che c'è bella scoperta comunque anche Felipe Anderson è tornato ad essere un discreto esterno offensivo solo contro l'interno solo contro l'interno comunque Milinkovic e Immobile hanno svoltato la stagione insieme a Luis Alberto sono stati tre uomini penso che hanno fatto la fortuna di tutti quelli che erano sul pantalazio e hanno fatto sì che da soli portassero alla Lazio a sfiorare la Champions League e poi invece conquistava l'Inter ah vota la Lazio io do un 7 e mezzo per il calo finale altrimenti sarebbe stato un 8 ok inter inter una squadra io dico che è l'unica squadra che ha mantenuto le proprie aspettative perché l'Inter prima dell'inizio del campionato spalletta dichiarati il nostro obiettivo è il quarto posto sono arrivati i quarti hanno fatto un gironi di andata al di sopra delle aspettative sono stati i primi per diverse giornate sono calati a cavallo fra l'andata e il ritorno e la prima parte del ritorno calati nettamente con una bella crisi e poi la squadra ha saputo riprendersi grazie anche a Spalletti quindi e grazie anche agli inserimenti di Rafinha a gennaio e la scoperta di Cancelo che era stato in panchina per tutto il girono di andata non si sa perché e quindi darei un bel voto all'Inter io darei un 8 sì io direi che l'Inter ha saputo anche affrontare la parziale diciamo depressione realizzativa di Cardi a un certo punto della stagione ha saputo cavalcare sulla cresta dell'onda per un grande Perisic finché ha giocato bene e poi quando Perisic ha iniziato negli ultimi mesi a fare prestazioni meno saltanti ha tirato fuori da Cilindro un grande Cancelo, un grande Rafinha quindi anche un bel Cicilino Brozovic quindi è una squadra un bel mix di giocatori talentuosi dosati bene al punto giusto che con poche accortezze sul mercato a mio avviso potranno fare ancora meglio l'anno prossimo quindi dallo tu il voto ma il mio è un 8 un 8 la Roma, la Roma la Roma è il miglior voto che do al campionato 9 e mezzo per me perché ha fatto un campionato esaltante ha fatto bellissime partite ha perso nuovi punti ed è sempre stata sicura della Champions League non ha mai puntato a vincere lo Scudetto perché nel frattempo ha fatto una grandissima Champions League ottimo girone bellissime figure contro Atletico Madrid Chelsea Barcellona ha buttato fuori Barcellona la remontata pazzesca e quindi solo tanti complimenti ha dato anche fastidio a Liverpool in semifinale tanti complimenti per aver gestito in parallelo le competizioni arrivando un bel piazzamento diciamo terzo posto sia in Champions League che in campionato con una rosa molto rimaneggiata rispetto all'anno scorso e l'allenatore nuovo allenatore nuovo senza ludica senza Salah miglior centrocampista della Premier League capo cannoniere scarpa d'oro ha fatto comunque miracoli con uno chic a mezzo servizio un under tirato fuori dalla primavera del campionato burco ottimo veramente ottimo voto? 9 e mezzo sì sono d'accordo il Napoli il Napoli una squadra che era partita insieme alla Juventus come favorita per lo Scudetto che è stata lì per vincerlo fino a un mese dalla fine della stagione è calata nel momento in cui non doveva calare gran bel gioco ottimi giocatori soprattutto quelli titolari ma anche le panchine la panchina anche se molti non saranno d'accordo ma secondo me ha grandi giocatori anche di panchina ha sbagliato Sarri nella gestione dei giocatori ha sbagliato i giocatori forse nel carattere nella convinzione e a non perseguire il proprio obiettivo nel momento in cui andava raggiunto quando ci sono giocatori come Verdi che dicono no a una squadra da scudetto perché hanno paura che poi non vengano impiegati abbastanza significa qualche problema perché l'allenatore non può dire ho una rocciaporta e poi giocatori come Giaccherini che vengono regalati al Chievo a metà campionato fanno partite saltanti giocatori come Verdi poi non vengono comprati perché hanno paura panchina giocatori come Diovarà Rogoz Gieschi Maximovic restano a guardare Milik non giocano ovviamente questo era l'anno buono dell'Avoli perché aveva una squadra aveva l'unici perfetto quello che tutti sapevano a memoria poi ovviamente c'è stato l'infortunio del difensore esterno non viene il nome Gulam ha dovuto giocare Mario Lui ma comunque era una formazione ottima che a mio avviso non tornerà perché persa questa occasione perché si è festeggiato troppo dopo la vittoria contro la Juve cioè ricordate che il Napoli è uscito quasi volontariamente dall'Europa League per concentrarsi il campionato e poi è crollata ugualmente a causa della mancanza di forze fisiche non so secondo me più forze mentali e questa occasione a mio avviso non torneranno perché ci sono sirene cinesi per l'Amsic sirene inglesi per Mertens e la squadra sempre a via santi si smembra quindi io credo quindi voto al Napoli per me sei la seconda parte della stagione nove la prima quindi il sette e mezzo sono finalmente d'accordo confermo il sette e mezzo e chiudiamo con l'Italia e l'Italia possono prendere un poco basso io dai nove però però non sono soddisfatto abbastanza primo perché da sempre il nostro obiettivo è la Champions ma secondo perché quest'anno è l'anno in cui ho avuto più paura di perdere lo scudetto ma non paura perché se non lo vinciamo noi succede qualcosa di strano ma perché avevamo tutti i mezzi per farlo visto appunto che il Napoli poi nell'ultimo mese si dimostrava abbastanza in concluenza invece anche noi negli ultimi due mesi non abbiamo fondato sempre il colpo abbiamo lungo anche noi un calo fisico anche noi dopo uscite della Champions League sembrava che avessimo meno forze di prima quindi a mio avviso è stato un campionato strano ottimo fino a febbraio poi anche se siamo stati per un bel pezzo di vero a Napoli e poi passi falsi mischi a grandi prestazioni un po' strano da capire quindi una Juventus con un gioco il problema del gioco infatti non erano tanti risultati erano grandi campioni partite noiose risolte solo da grandi campioni a volte che giocavano in maniera singola e non è un bel segnale in vista di quello che poi sarà la Juve del futuro che deve staccarsi un po' dalle grandi giocate e deve per vincere la Champions direi diventare più che altro una grande squadra quella che era una volta con la BBC che adesso non c'è più quindi vota la Juventus di quest'anno? no 9 perché ha vinto però non per il gioco assolutamente io alla Juventus do un 8 un 8 perché il gioco non mi è piaciuto assolutamente quindi comunque hanno vinto e grazie ai grandi campioni quindi non si merita sicuramente un voto basso con il pagellone vi salutiamo vi rimandiamo al prossimo video in cui faremo il giochetto del calciomercato quindi seguitelo molto importante seguitelo no il giochetto del protagonista il protagonista ragazzi quindi non è legato al calciomercato non è legato al calciomercato il giochetto del protagonista il giochetto del protagonista sul prossimo video e vi salutiamo un saluto anche da Don Peppe che in questo momento è sulla Salerno di Gio Calame e cin cin a tutti cin cin a tutti